un po un po insicuro perché erano abbastanza calde quando sono arrivato infatti alla prima presina sento abbastanza caldo poi invece l'attacco l'ho presa bene mi sono sistemato bene ogni volta che vengo a finale lingure trovo sempre qualche luogo da scoprire e mi piace molto scalare da queste parti perché ogni angolo ed ogni via danno la sensazione di essere unici il posto che più mi ha colpito è sicuramente l'alveare di monte sordo ed ovviamente l'incredibile linea di iena era l'inverno del 2012 quando non ancora avevo 14 anni che per la prima volta ho voluto provare questa fantastica via da subito però avevo capito che non avevo nella forza nel livello giusto per affrontare una linea del genere quel giorno comunque scalato viaggio del futuro un altro simbolo dell'arampicata finale è solo dopo tre anni che decido di riprovare primo febbraio 2015 viena all'area di finale di rigure anche questa è andata mazza 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 Iena è una via unica, al di là del grado quello che conta per questo tiro è sicuramente la storia e la bellezza della linea. Penso che Andrea Gallo quando nell'85 ha messo per la prima volta le mani su questa via si si sia reso conto del fatto che fosse una via turistica. Sono infatti passati 30 anni ma per me Iena è una via che ancora avrà un futuro. Un futuro molto lungo. Sì! 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 Sì!